Siamo sempre all'interno della chiesa di San Maria Assunta a San Cino, all'interno di questo vano che riparte dalla navata laterale destra. Sopra di me si trova un quadro del pittore Angelo Massarotti, vissuto a cavallo tra 600 e 700, che raffigura la buona morte. Nella parte centrale il sacerdote viene rappresentato nell'atto di impartire le sue emozioni alla morire. All'angolo destro le donne andranno dal dolore. Si nota la presenza di una donna che si asciuga il volto con un'infanzia veramente scossa. Nella parte superiore la sabra famiglia, la Madonna con bambino e San Giuseppe. Sulla sinistra invece Santa Teresa d'Adila, Carmelitana e Sant'Ignazio dell'Oiola, fondatore della Compagnia di Gesù nel 1534, che aveva il riconoscimento ufficiale da parte del Papa Paolo III nel 1540. Grazie a tutti. Grazie a tutti.